Salve, sono un ragazzo italiano giovane di 19 anni, possiedo un diploma di operatore elettronico con voto 85 su 100. Purtroppo sono inoccupato da due anni, essendo che le aziende cercano persone già preparate. Mi ritengo un ragazzo con molta voglia, dinamico e che impara subito. Sono un appassionato di informatica e mi esercito su computer di miei conoscenti, nella speranza di essere contattato. Cordiali saluti. Ragazza per gestione e colazione in un bed and breakfast. Cerchiamo una ragazza per gestione e colazione in un bed and breakfast in zona San Pieso, al Vaticano. Anche primissima esperienza ma con voglia di imparare in modi gentili verso i nostri ospiti. Non cerchiamo persone problematiche. Check-in, accoglienza ospiti e piccole commissioni. Disponibilità immediata. Requisiti necessari, ottima presenza, ottima conoscenza della lingua italiana e inglese. Residenza in zona Prati-Vaticano, uso del PC per accoglienza ospiti. Compenso 150 euro mensili, primo mese di prova 100 euro, affiancamento iniziale non attribuito. Inviare un'email con fotografie chiare. Le email senza fotografie non verranno prese in considerazione. Cerco possibile stagio tirocinio. Cerco possibile stagio tirocinio e quindi anche non retribuito per imparare uno o più ruoli del settore alberghiero. Serio referenziato 25enne. Gabriele. Stagio agenzia servizi. Agenzia servizi operante del settore filistico-congressuale nell'ambito sociale e ambientale. Cerca laureato o laureata per stagio non retribuito. Sono richieste per disposizione al lavoro di squadra, flessibilità, ottime dote comunicative. Saranno prese in considerazione solo le candidature da persone residenti a Padova. Inviare un curriculum a sviluppo chiocciolaadesco.it Makeup Artist cerca collaborazioni anche non retribuite o con minimo compenso presso fotografi per prime esperienze shooting. Disponibile anche per collaborazioni con centri estetici e parrucchieri. Studi frequentati presso la Makeup Forever Academy. Offersi stage di tirocinio per architetti o laureati in architettura. Full-time architetti presso il comune di Campania Lupia. Come da titolo, offersi stirocinio stage per architetti e laureati in architettura. Si accettano anche candidature per co-working presso le nostre sedi www.studio-morandina.it. Neolaureata in lingue cerca lavoro come commessa segretaria babysitter. Esperienza quinquennale come babysitter. Esperienza come cassiera di libreria. disponibile anche per lezioni di lingua e letteratura italiana. Inviare mail per inviacivi. Hostess personale. Sei stanca di guadagnare 1000 euro al mese mentre chi sta rubando a te come persona va in giro in Ferrari? Stanca di essere trattata come una pezza da piedi per non parlare delle bollette di luce e gas e telefono da pagare? Bene, se sei stanca di tutto questo forse abbiamo la soluzione. Ricerchiamo per la nostra agenzia di intrattenimento ragazze di bella presenza da inserire nel settore hostess personale. Retribuzione mensile pari a 3000 euro netti. Certo, non è molto, ma è solo l'inizio. Se interessata manda 4 foto e una presentazione al Free Dream 2001. Chiocciano.it. Laureata a CTF cerca stagio in farmacia. Laureata in chimiche e tecnologie farmaceutiche e in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista domiciliata a Roma zona San Lorenzo. Cerco stagio in farmacia e parafarmacia di Roma, anche non retribuito allo scopo di acquisire esperienza nella mansione. Ottima conoscenza della lingua inglese, disponibilità immediata. Stage di lavoro in Russia. Stiamo cercando una figura da inserire per uno stage della durata di tre mesi presso uno studio di progettazioni e arredamenti made in Italy a San Pietroburgo, Russia. Il candidato deve conoscere il programma 3D Studio Max, il disegno tecnico e un'ottima conoscenza della lingua russa. Lo stage non è retribuito e tutte le spese sono a carico dello stagista e ammontano circa 2.100 euro. Per ulteriori informazioni visita il nostro sito. Cerco lavoro. Sono un neolaureato alla ricerca di un qualsiasi lavoro. Offresi stage non retribuito presso agenzia di comunicazione Sede Legnano. All4Events ricerca una figura da inserire come stage all'interno della propria sede di Legnano nel ruolo di account executive. Il candidato dovrà occuparsi della ricerca e federalizzazione del cliente, analizzare le esigenze del cliente, coordinarsi con i reparti dell'agenzia. I requisiti richiesti per candidarsi sono età compresa fra i 18 e i 25 anni. Bella presenza, ottima conoscenza nel pacchetto office. Si propone un contratto stage da 3 a 6 mesi non retribuito. Possibilità di rinnovo con un contratto a tempo determinato. Se interessati inviare un curriculum e una fotografia via email a cv chiocciola all4events.com a cv chiocciola all4events.com a cv chiocciola all4events.com un'anno Grazie a tutti.